Salve ragazzi, è bevuta l'ultimate di Doorway to Another Realms Qui dovremmo affrontare 3 leech, ma non tutti insieme, uno alla volta Quando ne uccideremo uno, arriverà il secondo, e poi è il terzo Sono boss sia fisici che magici, che possono mettersi anche dei buff, quindi bisogna portarsi i punishing strike Che cambiano le debolezze ogni X turni Noi tra gli obiettivi infatti abbiamo di colpirli entrambe, tutti e tre, con la loro debolezze al fuoco Qui dobbiamo aspettare che il cambio della loro debolezze al fuoco, e colpirli e prendere l'obiettivo Sono boss sia fisici che magici, e visto che le loro magie dovrebbero essere anche single target, ho portato a Exedet Questo dovremmo averlo già affrontato, quello diciamo, attraverso l'ultimo, l'Imperial Leech, nelle battaglie precedenti di questo evento Qui dovremmo più o meno conoscere come ragionano Conoscere come ragionano Per le loro magie Grazie. Ho cambiato, fa sicuramente dovrebbe essere tipo al fuoco. Il primo andato è stato pure abbastanza semplice. Ho poi anche metterlo. Grazie. 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 Dov'è andare a scatti? Ormai questo è l'ultimo quindi è giro come se fossero l'ultima parte dei punti vita e usero tutte le MSB. Cercando comunque di aspettare che diventa devono a fuoco e con meno abilità per prendere l'obiettivo. Ecco qua. Vabbè ma è finita e diciamo che purtroppo per il boss quando arrivano alla fase finale non espirano molto. Ok faccio veramente molti danni con tutte le MSB che c'ho. Non mi è sembrato una battaglia estremamente difficile. L'ho fatta fuori tutte e tre facilmente. Soprattutto il terzo avete visto che sono andato di Soul Break e con lui non poteva dire praticamente niente. Anche se mi ha trovato un gettore di azione prese che comunque devo aspettare che voglio essere la debolezza a fuoco. Non trate solo la difficoltà. Basta mettere i difesi e tutte le caratteristiche. Fate tranquillissimi. Grazie per l'avvisazione. Al breve se riesco posterò la prossima. Grazie. Ciao.